Notizia, signori, veramente stupenda e dir anche poco per Patrick Zacchi, perché il giorno dopo la sentenza praticamente ora è libero, torna in Italia. Avete capito bene, l'attivista tornerà in libertà con la grazia concessa gli dall'Egitto da Al-Sisi subito pochi giorni dopo la condanna a tre anni, ma andiamo subito nello specifico. Mercoledì 19 luglio, poche ore dopo la condanna inflitta gli dal tribunale egiziano, la grazia concessa a Patrick Zacchi dal presidente Al-Sisi, secondo fonti citate dall'Ansa, è frutto di una lunga e costante trattativa, tra il governo italiano e quello egiziano, che ha visto protagonisti il premier Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha svolto diverse missioni in Egitto in questi mesi, e l'Aise, l'agenzia di intelligence che si occupa dell'estero. Una fonte giornalistica egiziana ha riferito che un poliziotto avrebbe escluso che Patrick Zacchi possa essere rilasciato già stamattina, come invece previsto ieri da un noto attivista ed ex candidato presidenziale, Khaled Ali. La fonte, confermando che il ricercatore egiziano appena graziato è nella direzione di polizia di Nuova Mansura, sulla costa del delta del Nilo, ha ricordato che in genere i detenuti vengono rilasciati a fine giornata, quindi nel pomeriggio. Sempre secondo il poliziotto, per Patrick sarebbe previsto un primo trasferimento in cellulare nella vicina, circa 10 chilometri, Rigamasa, località traslitterabile anche in Gamasa, a ovest di Damietta, e poi un ulteriore passaggio procedurale a un commissariato di Mansura, circa 60 chilometri a sud dove verrebbe rilasciato. La madre di Patrick Zacchi, parlando all'ansa all'esterno della direzione di polizia di Nuova Mansura, ha detto di prevedere che il figlio venga rilasciato fra un po' le direttamente da questo edificio senza ulteriori passaggi procedurali né a Gamasa né a Mansura. La signora Alasobi non ha voluto precisare meglio, ma ha dato l'impressione di escludere l'informazione che il rilascio avvenga nel pomeriggio. La donna è con George, il padre di Patrick, entrambi in attesa in piedi accanto ad alcune auto. La polizia non ha detto esattamente a che ora sarà rilasciato, ma tra poco o mezz'ora, un'ora, hanno detto, quindi entro le 10 ore italiana, NDR, le procedure saranno completate subito e sarà rilasciato. Naturalmente siamo molto felici, la situazione è cambiata di 180 gradi, ringraziamo Dio. La madre di Zaki ha aggiunto, sempre a Lanza, che nella direzione di polizia di Nuova Mansura il figlio non è stato rinchiuso in alcuna cella di sicurezza, ma ha dormito in una stanza per gli ufficiali. La donna infatti ha spiegato che non ci sono celle qui, aggiungendo di aver potuto visitare il figlio il primo giorno, quindi l'altro ieri, quello della condanna e poi non più. Avrebbe dovuto vederlo oggi ma, vista la grazia presidenziale, ormai aspetto che esca. Un poliziotto le ha rivelato che Patrick sa di essere in grazia presidenziale. A Nuova Mansura, come ha constato Lanza, sono arrivate anche la sorella Marise, la fidanzata Reni Skander e l'amica Yusrael Klesli. L'uso da parte del presidente Al-Sisi della sua autorità costituzionale per concedere la grazia presidenziale è un apprezzamento, punto. Personale per la profondità e la forza delle relazioni italo-egiziane, e la rapidità della grazia ne è la migliore prova, in particolare poiché è avvenuto meno di 24 ore dopo l'emissione della sentenza definitiva, lo ha dichiarato. In un messaggio a Lanza, l'ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Radi, riferendosi all'atto di clemenza del capo di Stato dell'Egitto nei confronti di Patrick Zaki. E ancora, lo Stato egiziano rispetta la legge e la Costituzione e apprezza le sentenze emesse dalla sua istituzione giudiziaria perché è uno Stato di diritto, ha premesso il diplomatico, già portavoce della presidenza egiziana e di Sisi. Dato che la Costituzione ha concesso al presidente della Repubblica il potere di grazia presidenziale dopo l'emissione di sentenze, l'iniziativa di Sisi è stata senza dubbio diretta a sostenere le relazioni italo-egiziane, le quali si sono estese attraverso la storia che ha unito le sue due grandi civiltà, ha insistito Radi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.